Benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale, una rubrica dal titolo Piccoli passi con la dietista, una rubrica con la quale cercheremo di offrirvi proprio degli spunti pratici e educativi sul tema della nutrizione. Prima di illustrare questo progetto vado però a presentare la dottoressa Elisa Pelati, nutrizionista e dietista, che ci accompagnerà durante tutto questo percorso. Grazie Benedetta, parto subito con la mia presentazione. Sono una dietista nutrizionista iscritta all'albo dei dietisti dell'ordine TSRM-PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Sono la fondatrice del Centro di Nutrizione e di Educazione Alimentare Oltre, situato a San Severino Marche. Collaboro con il Centro Medico Associati Physiomed, nonché con l'associazione HELP SOS Salute e Famiglia ODV di San Severino Marche. Sono esperta di prevenzione delle malattie e promozione della salute, con un cospicuo numero di progetti da me strutturati. Attualmente sto portando avanti il Master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana dell'Università Politecnica delle Marche, questo per avere una formazione a 360 gradi. Ecco, dopo questa presentazione molto ricca, direi di partire proprio dal titolo di questa rubrica. A piccoli passi, quando ne abbiamo parlato, quando mi hai manifestato la tua idea, ho pensato subito a qualcosa di non drastico o magari anche a uno stile di vita che si può iniziare ad applicare sin da piccoli. Qual è il senso di questo titolo? Allora, il titolo a piccoli passi cerca proprio di puntare l'attenzione su questo percorso di rieducazione alimentare. Una rieducazione che cercherò di fare il più possibile in maniera semplice, quindi con dei termini fruibili a tutti. E quindi mi è sembrato appunto un titolo che spiegasse bene questo concetto. Da che cosa vorresti partire allora per questa rieducazione alimentare? Allora, possiamo partire dal concetto di salute per poi parlare magari dei determinanti. Possiamo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale. E non solo come la mancanza di malattia o di fragilità. Ecco che quindi la salute diventa un vero e proprio concetto complesso e possiamo dire che non è un dovere ma piuttosto è un nostro diritto. Quindi un concetto complesso in cui concorrono tanti fattori e tanti determinanti. Che cosa sono i determinanti? Esatto. Allora, questi determinanti sono tutti quei fattori che incidono sullo stato di salute del singolo, ma in maniera un pochettino più estesa anche di un'intera comunità. Ci sono diversi modelli che hanno rappresentato nel tempo questi determinanti della salute. E se per esempio prendiamo in considerazione il modello europeo, vediamo degli strati concentrici che vanno proprio a rappresentare i determinanti. All'interno troviamo gli individui, quindi ci siamo noi, con le nostre caratteristiche biologiche, come per esempio il genere, l'età, le caratteristiche ereditarie, quindi quello che non possiamo andare a modificare. Andando avanti, negli altri strati, troviamo tutti gli altri fattori, come per esempio le reti sociali e comunitarie, i fattori individuali e dello stile di vita, dove chiaramente troviamo anche l'alimentazione e il movimento, ma abbiamo anche tutti quei determinanti relativi per esempio all'ambiente in cui viviamo, alla situazione politica, sociale e sanitaria. Faccio qualche esempio. Il luogo di lavoro, l'abitazione, l'assistenza sanitaria che il nostro governo ci offre, quindi insomma tutti questi fattori che hanno un'influenza veramente importante. Ecco, partendo da questa riflessione, vediamo appunto come i determinanti esterni, quindi quelli che non controlliamo noi come singoli, sono tanti, sono veramente veramente tanti e hanno un'influenza maggiore rispetto a quello che noi possiamo decidere, insomma per la nostra salute. E la colpevolizzazione che quindi il singolo vive e che purtroppo io ascolto quotidianamente nel mio lavoro, ecco, da questa rappresentazione si vede come in realtà non sia poi tanto vero a livello scientifico, quindi ci può far riflettere sulla nostra percezione di salute. Quindi dottoressa, se è vero che la salute è il frutto di scelte individuali, quindi una dieta sana ed equilibrata, praticare attività fisica e poi potremmo parlare anche di assunzione di uomo, alcol, però il favorire la creazione di un ambiente, di condizioni sociali, economiche e ambientali che inducano l'individuo a scelte sane diventa proprio essenziale per promuovere la salute del singolo e della comunità. Certo, è fondamentale. E dai determinanti, quali sono le altre tematiche che tu reputi di dover affrontare? Allora, ti ringrazio per questa domanda perché a me non mi permetti un attimino di introdurre le prossime puntate. Intanto parleremo del concetto di fame e di sazietà. Poi faremo un escursus sulla grassofobia e sull'importanza comunque del peso, sulla percezione che noi abbiamo del peso, in termini non solo sociosanitari ma anche a livello culturale. Parleremo anche di abuso di professione, quindi faremo una panoramica su chi davvero può fare questa professione senza appunto incorrere nell'abuso. E poi vedremo diversi pattern dietetici riconosciuti a livello sanitario, a livello scientifico come la dieta mediterranea, la dieta vegana, la dieta vegetariana. E cercheremo anche di affrontare tutti quegli accorgimenti da avere per le fasi della vita, come per esempio la gravidanza, l'allattamento, fino a parlare di allergie e di toleranza alimentare. Quindi insomma abbiamo diversi argomenti da portare insieme. Diversi argomenti, partiremo da considerazioni più teoriche per passare poi a proprio degli spunti pratici che vogliamo fornire a chi ci segue. Grazie per averci seguito, grazie Lisa per essere stata con noi, ci vediamo al secondo appuntamento e parleremo proprio del senso della fame. Grazie Benedetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.